No alle violazioni e alle discriminazioni. Parte da Cagliari la campagna della Lila e della CGL per la tutela dei diritti sui luoghi di lavoro. Aumentano infatti i casi di chi è stato costretto a licenziarsi o è stato destinato a un altro impiego per non aver voluto sottoporsi al test dell'HIV. Il servizio è di Roberta Ebau. Il test HIV non può essere imposto dai datori di lavoro né prima né dopo l'assunzione per legge. E proprio per la tutela dei diritti e della lotta alla discriminazione nei luoghi di lavoro è stata organizzata la campagna di sensibilizzazione Fermiamo l'HIV, non le persone con l'HIV. A promuoverla la CGL, Ufficio Nuovi Diritti e Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS di Cagliari. E partirà dal capologo sardo domenica 1 maggio. Numerose le segnalazioni ai centralini della Lila, suppressioni e imposizioni. Da luglio fino ad ora solo a Cagliari ci sono state 10 richieste di consulenza legale da parte di persone che sono state costrette a licenziarsi o sono state demansionate per non aver voluto sottoporsi al test. Succede in vari campi, dal turismo all'assistenza al commercio. In prima linea l'associazione ma anche il sindacato, in sintesi. Secondo la normativa italiana l'esame per l'accertamento dell'infezione da HIV non rientra fra le analisi del sangue di routine. Rappresenta una scelta individuale, autonoma e volontaria, uno screening indiscriminato su tutti i dipendenti e un abuso e un illecito. Per la Lila un atto di discriminazione lesivo dei diritti di ogni persona.